Nonostante, ancora non è stato pubblicato Day 2, ma è per mantenervi un po' di suspense, e di più, di più, di più. Oggi è domenica, siamo in chieno ritardo, stiamo per andare a darle. Andremo in dieta! Andiamo a vedere la Messa Ghostsman, non capiremo niente, non facciamo niente. Se riusciamo, se non finiamo troppo tardi, magari facciamo una passeggiata d'arte veloce, e poi corriamo a fare lezione! Corri! Anna, devi dichiarare qualcosa? Mi intera dichiarato, come l'adurtro. E niente, stiamo già pezzando perché è un sbalzo termico, e questo sbalzo termico provoca delle gravi anomalie alla ciuffa. Come vedete, è oscena, oscena. Datemi un'amen! Amen! Riccardo, aggiornamento sul tuo bagaglio? Niente di niente! No, un pervenuto! Oh, per questa è la mia venita! Infatti vedete com'è vestito bene? Out of my hands! Out of my hands! No, un pervenuto! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!